Buongiorno Tiago, credo che il tuo Bologna sia la squadra che è stata più ferma in questa sosta, cioè 17 giorni credo da Empoli a lunedì. Ogni sosta porta un'incognita per tutti. Che squadra speri di ritrovare o hai ritrovato anche a rientro dei tuoi nazionali? La nostra benissimo, anche perché in tanti sono andati in nazionale, hanno giocato, quelli che sono rimasti hanno fatto buoni allenamenti preparandosi già per la prossima partita. Nessun dubbio che stanno in una forma fantastica in questo momento. Anche tu hai un po' ricaricato le pile, perché insomma tu sei uno molto intenso nei tuoi allenamenti, ovviamente anche te hai bisogno ogni tanto di staccare. Come vivi questa pressione che anche in questi 17 giorni c'è comunque su questa squadra, meritata sul campo da questa squadra, che è accompagnata da grandi aspettative? Adesso parlo del traguardo centro, comunque traguardo Europa diciamo. Cosa che so perfettamente, che faceva ridere in agosto, quindi state facendo qualcosa di incredibile. Però oggi siete lì e quindi credo che sia giusto correre per quel tipo di idee. Prima nella tua domanda ho avuto tempo di riposare, di recuperarmi, sono andato a casa. Sono stato con la famiglia, che è la cosa che aiuta a ricaricare l'energia. Abbiamo sì una grande responsabilità di continuare nella stessa strada, con grande impegno, massimo impegno, concentrazione, prepararsi bene per la prossima partita, che è contro la salernità, una squadra che in questo momento si gioca la salvezza, il cambio d'allenatore, sono tutti stimoli, ingredienti dove troveremo sicuramente una squadra molto complicata da affrontare noi, mentalmente, fisicamente, tecnicamente pronti ad affrontare questa squadra. Ciao Tiago. Volevo chiederti di Casper, siccome ha avuto un po' di infortuni, più che altro non dal punto di vista tecnico. Casper? Gesper. Gesper, scusa. Ah, no, Casper non ha mai avuto infortuni. Scusami, mi sono confusa. Gesper, volevo sapere come lo trovi dal punto di vista psicologico, emotivo, se mentalmente, insomma, nonostante magari qualche infortunio, è pronto per dare il suo contributo, dal punto di vista proprio mentale. Psicologicamente, emotivamente parlando, lo vedo sempre bene. Da quando è arrivato non l'ho visto mai male, sinceramente. È chiaro che non è allo stesso ritmo degli altri, ma è una cosa normale. Una cosa normale per stare tanto tempo fermo con questo infortunio che non ha permesso di stare con il gruppo, con le squadre, sta rientrando e vedremo, vedremo per il futuro come si troverà e come sempre a contribuire quello che può insieme agli altri, ai suoi compagni per il bene della squadra. A proposito di ritmo, ce l'ha Zirze, il ritmo, nel senso che lui è rientrato in gruppo, anche lui dopo un piccolo stop. Joshua è come se non fosse fermo, penso che Joshua è stato qualche giorno, o qualche giorni è stato fermo, poi dopo subito recuperandosi, l'ho visto tantissimo in campo, con grande intensità, facendo anche degli allenamenti, sì a parte, ma l'ho visto in grande forma. Si è fermato per un piccolo fastidio che aveva e oggi sta bene, sta con il gruppo e vedremo per la prossima partita quanto potrà contribuire alla squadra. Altra cosa, il problemino, il problema di Beu, che magari facilita un po' forse le scelte in difesa, però le chiedo se ha visto Riccardo da Mezzala a Calafiori in under 21, se le è piaciuto e se è un qualcosa che ha visto che lei anche aveva detto che poteva insieme a Lucumi giocare in mediana, che cosa ne pensi? Io l'ho visto bene, io vedo sempre bene il suo atteggiamento, sappiamo tutti che il suo ruolo sia terzino, però è disponibile a fare qualsiasi ruolo nel campo, ma c'è un'attitudine, un atteggiamento che serve da esempio per tutti gli altri, io l'ho visto in nazionale, l'ho visto bene, è tornato da noi, ha fatto magari 12 chilometri in partita, l'ultima partita con la nazionale, è tornato da noi subito, il giorno dopo stava bene, si poteva allenare, è un ragazzo che sta molto bene, a prescindere del ruolo che deve fare nel campo, lui lo fa bene perché crede veramente in quello che può dare per la squadra e lo fa in un modo fantastico. Una domanda teorica a un allenatore, un giocatore così bravo, e tu sei stato bravo per primo a scoprire che poteva fare altre cose oltre al suo ruolo naturale, mette in difficoltà un allenatore, non te, ma qual è il ruolo di Calafiori? Perché tu lo metti a mezzala, l'altro giorno ha fatto una partita, devo dire, buona da mezzala, fa centrale e fa centrocampista, lo metti terzino, magari poco, l'hai messo terzino, ma sai quello che ti può dare. Non posso parlare in un modo generale perché ognuno ha la sua idea, io come allenatore vorrei avere tutti i giocatori così, perché avendo dei giocatori così puoi avere anche una squadra ancora più ridotta, che è una cosa che a me mi piace, a me mi piace perché tutti partecipano, tutti si sentono importanti, e nelle situazioni dove magari ti manca uno, sai che un altro lo può coprire col ruolo perfettamente. È il caso oggi di Riccardo, penso che per me, da come vedo io il calcio, vorrei avere tutti i giocatori così, che possono coprire tanti ruoli e nel modo che lo fa lui, convinto di farlo bene, non è che lo fa per farlo, se no è convinto perfettamente, sa, ha la convinzione che ha tutte le condizioni per farlo. Buon pomeriggio mister, un altro calciatore che ha fatto bene il nazionale, anche Giovanni Fabian, è il giocatore che più ti ha stupito? No, è stupito no, è un giocatore che mi piace tanto, perché anche lui ha fatto mezz'ala molto bene, ha giocato da esterno d'attacco molto bene, è pronto, l'ultima partita è entrata, è quello che parliamo sempre, non è il minutaggio, quanto gioca deve contribuire alla squadra, lui è pronto a giocare 5 minuti, è pronto a giocare 90, 96, lui è pronto a tutto, sono dei ragazzi così che fanno un gran bene a questo gruppo, lui serve anche di esempio per gli altri, che può essere decisivo giocando tutta la gara, o giocando solo 5-10 minuti. dopo l'assist per Barriere nazionale per Riccardo Orsolini, lo hai visto più responsabilizzato, più carico? L'ho visto uguale, sta bene come gli altri, si sta allenando, e vedremo per la prossima partita, ma lì serve uguale, ha giocato 15 minuti, ha fatto assist, è stato decisivo in quel gol, è quello che vogliamo anche da noi, e Riccardo fa parte di queste squadre come tutti gli altri, deve essere decisivo il tempo che giocherà e che parteciperà. Che tipo di serenità ne ti aspetti? Una squadra complicata, perché individualmente parlando, è una squadra forte, ha dei buoni giocatori, è vero che hanno avuto dei cambi, è vero anche con il cambio d'allenatore, è un stimolo in più, magari anche per quelli che partecipano di meno, o partecipavano di meno, che hanno la possibilità di dimostrare, e diventare importante anche loro, e ripeto, una squadra che individualmente, è forte i giochi che i giochi, sono buonissimi i giocatori, dove troveremo una squadra complicata, ma noi pronti ad affrontare qualsiasi tipo di gioco, e dei moduli anche, perché non sappiamo ancora quale modulo possano utilizzare. Ecco, proprio questo penso sia una difficoltà, il fatto che la serenità ne abbia cambiato quattro allenatori, quindi su cosa soprattutto vi siete basati per studiare la vostra avversaria? Siamo basati tantissimo su di noi, grande concentrazione, massimo impegno, prepararsi e essere disposti a tutto in campo per fare una grandissima prestazione, ripeto, oggi contro una squadra complicata che andremo ad affrontare, però come tutte le squadre che abbiamo affrontato fino ad oggi in Serie A, e come quelle che affronteremo fino alla fine, noi pronti a dare il nostro massimo, come sempre. Ma senti, grande gloria per quello che avete fatto, tutta strameritata, l'altra faccia della medaglia è che ovviamente, specie durante la sosta, giornali, televisioni, radio, insomma le informazioni in Serie A, accosta 3-4 giocatori più importanti della tua squadra, detto che per te sono tutti importanti, lo so perfettamente, ma diciamo quelli che hanno più visibilità li accosta grandi squadre, ecco, per il mercato del domani, quello che accadrà da giugno in poi. È un, non so, è una cosa che fa piacere, è un ostacolo, vedi questo pericolo nel gruppo? Li vedo, li vedo tutti bene, si impegnano nello stesso modo del primo giorno che si sono presentati in ritiro per prepararsi e così andiamo a prepararsi al massimo per affrontare la prossima partita che è la Salernità. Tutto il resto conta veramente, veramente poco. Questa squadra è diventata un po' la sublimazione di quello che cercava lei nella sua tesi di Coverciano? Sono contento del momento che stiamo attraversando perché arriviamo a competere contro ogni squadra che abbiamo di fronte e sono contento perché i ragazzi continuano nella stessa strada sanno perfettamente come siamo arrivati fino a questo momento e perché siamo arrivati a questo momento. Adesso è da approfittare il momento con grandissima concentrazione con grandissima attenzione impegnarsi come sempre al massimo e prepararsi per la prossima partita. Oggi e nel momento sono soddisfatto felice e è per questo che è importante approfittare tutto questo per preparare molto bene la prossima contro la Salernitana che ripeto è una squadra complicata oggi da affrontare. ma ognuno è libero di fare la sua scelta in questo caso ha fatto una scelta rispettabile io spero il meglio e gli auguro il meglio a lui Klopp sta molto bene sta a Liverpool sta ma no sta ancora sta approfittando in questo momento una grande squadra giocando il campionato inglese io sto bene pensando alla Salernitana preparandomi e preparando le squadre al massimo per affrontare questa questa grande occasione che abbiamo la prossima partita giocando in casa stadio pieno e il nostro massimo per poter dare ancora un'altra volta allegria gioia alla nostra gente che vendranno le stadie no ti voglio dire ogni circostanza ha le sue regole però magari qualche volta tu hai dato più fiducia a quelli che si sono allenati qua magari a quelli che rientravano le nazionali la scelta del centroavanti è particolarmente strategica insomma Empoli è la prima partita senza Zirze avete forse dovuto cambiare qualcosa ecco quanto sono vicini entrambi a giocare cioè c'è uno che adesso non mi puoi dire chi gioca ma nella tua testa è davanti Odgard Zirze è pronto per giocare sta come stava prima di Empoli Jens è pronto Joshua è pronto Santiago è pronto e tutte le scelte che ho fatto fino ad oggi è quello che vedo quello che vedo nelle partite quello che vedo nell'allenamento quello che vedo nel momento e sarà sempre così la prossima scelta per lunedì non cambierà niente quello che vedo sarà la decisione migliore per la squadra per affrontare la prossima partita come sempre un grandissimo impegno del resto vedremo va bene buona Pasqua grazie grazie a tutti